Si preannunciano disagi nel trasporto pubblico a Venezia per venerdì 24 luglio a causa di uno sciopero nazionale della durata di 4 ore, dalle 20 a mezzanotte. AVM e ACTV informa che è stata proclamata per la sera una stensione nazionale da parte di una sigla sindacale, USB Trasporti, che potrà interessare il personale ACTV dei servizi di navigazione, tramviario automobilistico urbano ed extraurbano. Il servizio People Mover di collegamento tra Piazzale Roma, Marittima e Tronchetto sarà invece regolare. Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi. La protesta sarà a livello nazionale e coinvolgerà anche bus, treni, metro e tram. Gli orari di sciopero saranno differenti a livello territoriale. Il consiglio è quello di visitare i siti internet dei vari servizi.